Musica Buongiorno, sono le 7 del mattino di giovedì 20 giugno, benvenuti all'edicola. Morte di uno schiavo, così mette in prima pagina la stampa, la notizia tralasciata devo dire nei giorni scorsi a cui è stato dato tutto sommato davvero poco risalto di quello che era non solo un incidente sul lavoro ma qualche cosa di più perché quest'uomo era un bracciante agricolo indiano che lavorava in una delle tante aziende che si trovano nell'agropontino e in seguito a questo incidente che lavorava con un macchinario che gli aveva tranciato di netto un braccio era stato portato non in ospedale ma davanti all'abitazione dove aveva trovato appunto il rifugio con il proprio braccio abbandonato, pensate, nella cassetta, in una cassetta della frutta. Quest'uomo non ce l'ha fatta, è morto e questa vicenda è evidentemente insomma emblematica quindi a questo punto di tante cose e le riassume secondo me molto bene il titolo della stampa, Morte appunto di uno schiavo con questo articolo di Flavia Amabile, una riflessione anche di Marco Revelli che parla di questo abisso di disumanità e barbarie proprio perché appunto oltre al dramma della morte sul lavoro che come sapete è un dramma che ahimè affligge il nostro paese c'è questo di più legato alla schiavitù, al fatto che queste persone sono sostanzialmente vittime di caporalato, non hanno documenti che o se ce li hanno sono in nero e insomma, scrive Flavia Amabile si chiamava, anzi si chiama, scusate, Antonello Lovato l'uomo accusato di aver caricato su un furgone Sat Nam Singh e invece di portarlo al pronto soccorso di averlo lanciato come è illegale fare persino con i rifiuti a terra davanti alla sua abitazione gettandogli accanto il braccio amputato ha appoggiato una cassetta di plastica usata per gli ortaggi che Sat Nam Singh e gli altri braccianti raccolgono nella sua serra Lovato è accusato di omissione di soccorso violazione delle disposizioni in materia di lavoro irregolare e dopo la morte di Sat Nam Singh avvenuta ieri di omicidio colposo non si esclude che la procura possa valutare anche il reato di caporalato Lovato ha ammesso di aver trasportato Singh con l'arto amputato a casa ne avrebbe potuto fare diversamente il suo gesto è stato compiuto davanti a numerosi testimoni che hanno assicurato di essere pronti a raccontare quello che hanno visto anche se si tratta di clandestini come Sat Nam Singh e che quindi rischiano molto ad esporsi perché fra l'altro in tutta questa vicenda per l'appunto di tantissima omertà anche le stesse persone che avrebbero come dire un interesse fra virgolette a parlare ovviamente hanno paura perché essendo clandestine rischiano per esempio l'espulsione non si è tirata indietro e lo racconta questa sindacalista della Fly CGL che lavora proprio in quella zona indiana di seconda generazione si chiama Laura Ardip Kaure e dice sua moglie non si è ancora resa conto si rifiuta di credere che sia finita così ma soprattutto a proposito di quello che riguarda il lavoro racconta l'atteggiamento dei datori di lavoro è sempre più violento a margine fra l'altro la stampa giusto per farci capire qual è insomma ormai il mondo del lavoro del quale siamo circondati racconta un caso ovviamente completamente diverso in cui la direttrice di un supermercato MD di Brandizzo vicino Torino ha mandato una serie di vocali e fatto una serie di sfoghi nei confronti del proprio personale dicendo dovete farvela addosso il caso della direttrice che umiliava le cassiere e vengono riportati i brani di questa conversazione in cui lei dice mi sono rotta voi in bagno non ci andate più chi non è d'accordo se ne vada sono sempre stralci di conversazioni private però evidentemente insomma rendono bene il clima così come fa anche Repubblica anche Repubblica dedica una certa attenzione a questa vicenda anche Repubblica la mette in prima pagina non sono tantissimi questa mattina nessuno ci apre ma quelli che lo mettono in prima pagina comunque qualcuno lo fa Repubblica per esempio con l'inviata Gabriella Cerami che invece ci racconta questa vicenda appunto vista dalla parte della moglie questa ragazza di 26 anni arrivata dall'India in Italia tre anni fa con Sadnam Singh e il sogno di lavorare insieme ha visto suo marito tranciarsi un braccio con un macchinario nei campi di Latina essere trasportato su un furgone e scaraventato davanti a casa con l'arto appunto in una cassetta di frutta e racconta ancora questa donna ovviamente la sua disperazione ma racconta anche che a loro sono stati portati via i telefonini dice per impedirci di chiamare i soccorsi mentre il caporale si occupava già di pulire il camioncino per eliminare ogni traccia di sangue questo l'ha il racconto sul fatto quotidiano anche il fatto quotidiano mette la foto comunque notizia in prima pagina e subito a pagina 9 c'è un'intervista a Ivan Sagné 39 anni viene dal Cameron un attivista del Cameron è stato anche racconta il quotidiano nazionale premiato dal presidente Mattarella per il suo lavoro a favore dell'associazionismo e racconta dice alle istituzioni sfugge ancora un dettaglio che è sotto gli occhi di tutti il settore agricolo è quello con la maggiore incidenza di lavoro irregolare ed è spesso oggetto di infiltrazioni mafiose perché ieri ovviamente c'è stato come dire il cordoglio unanime della politica ma se al cordoglio poi non seguono diciamo così le azioni è tutto abbastanza inutile chiudo quindi facendovi vedere che cosa ne scrive il fatto quotidiano che non lo mette in prima pagina non c'è nessun richiamo ma affida Silvia Truzzi una riflessione interessante perché Truzzi ci racconta prima ovviamente tutta la vicenda siamo a pagina 11 e poi dice ora viene la parte difficile di questo articolo che cosa possiamo dire che non si è già stato detto ogni volta che un uomo o una donna muoiono sul lavoro qualcosa che non suoni terribilmente inutile retorico o stupido e poi arriva alla conclusione dice nella storia di Satman c'è qualcosa di più non solo la barbarie dello schiavismo agricolo e della mancanza di tutela ci sono le persone se possiamo ancora chiamarle così che hanno pensato di poter scaricare un essere umano ferito e il suo braccio straziato come oggetti ormai inservibili da buttare al lato di una strada e poi ci siamo noi che guardiamo l'umanità e la civiltà precipitare nel baratro in nome del profitto più o meno distrattamente pensandoci assolti perché ci indigniamo per 5 minuti possiamo solo chiedere scusa a Satnam e a tutti gli altri schiavi che muoiono per le nostre zucchine a poco prezzo perché nessuna punizione nessun risarcimento potranno fare giustizia dello scempio consumato in questo paese che ha ancora il coraggio di dirsi civile questo scrive il fatto si dovrebbe ragionare sul fatto scusate il gioco di parole di queste persone che vengono per l'appunto come scriveva la stampa a fare gli schiavi qui non c'è molta traccia di questa vicenda in altri quotidiani sarebbe stato interessante vederlo non ne troviamo traccia sulla prima pagina di Libero non ne troviamo traccia sulla prima pagina del giornale ci trasferiamo quindi a parlare di quelli che sono i temi di che cosa si parla su questi giornali e si parla e in un certo senso era anche abbastanza scontato dell'approvazione dell'autonomia differenzata ve la davamo praticamente in diretta ieri mattina la notizia perché l'approvazione è arrivata per l'appunto alle 7 e 40 fra l'altro proprio su questo gioca Libero che fa un po' di sarcasmo un po' di ironia perché alcuni editoriali si riferiscono al fatto che col favore delle tenebre è stata approvata questa riforma segnatamente insomma l'articolo di Libero prende di mira l'articolo per esempio di Annalisa Cuzzocrea vice direttrice della stampa e dice guardate che alle 7 e 40 non è più notte ormai la gente normale quella che lavora è sveglia da un po' è evidente che era insomma una metafora però non sono molte diciamo così le argomentazioni che troviamo su questi quotidiani come libro ma poi vedremo anche gli altri tant'è che il lettore che dovesse per l'appunto aprire questo quotidiano la prima notizia che vede al di là del titolo di apertura è arrivata l'autonomia è impazzita la sinistra minacce di morte in aula è proprio questa la cronaca del dibattito parlamentare con le minacce proferite da Susanna Cherchi deputata del Movimento 5 Stelle che a chi era in aula ha detto non dimenticate la fine di Mussolini la sinistra minaccia per voi Piazzale Loreto attenti agli italiani non c'è però molto molto di più se non e questo invece è interessante un'intervista al professor Giovanni Guzzetta che è ordinario di diritto costituzionale fra l'altro è siciliano è messinese quindi visto che si parla appunto dei rischi del sud ha un senso assolutamente intervistarlo e lui va controcorrente dicendo guardate che l'autonomia è un'opportunità anche per il sud sostiene che molti di quelli che criticano questa riforma non abbiano nemmeno letto il testo perché dice altrimenti non direbbero che alcune regioni saranno penalizzate perché dice il testo esclude che le regioni che accedono all'autonomia possano trattenere il cosiddetto residuo fiscale ovvero detto altrimenti se il gettito dei tributi che finanziano le funzioni ulteriori supera i fabbisogni per svolgerle l'eccedenza va restituita allo Stato con meccanismi di perequazione è ripeto una opinione quella di Guzzetta che viene invece molto molto contestata da tutte le opposizioni che hanno votato contro e che sono pronte anche a diciamo così scendere in piazza in parte l'hanno già fatto ma soprattutto a votare un referendum che non è scontato in questo caso perché non c'è stata una riforma costituzionale per quello che riguarda l'autonomia ma se si raccolgono le firme e la corte lo accetta si può arrivare a un referendum tant'è che Repubblica appunto va oltre e il titolo che fa è proprio questo referendum contro l'autonomia approvato dopo una maratona in aula il DDL leghista sul federalismo le opposizioni unite raccolta di firme per abrogarlo e ricorso alla consulta fra l'altro viene sottolineato anche nel titolo di Repubblica diciamo così la contrarietà della CEI questo è Zuppi che parla Monsignor Zuppi che dice non hanno voluto ascoltarci così come viene sottolineato anche la contrarietà di alcuni diciamo così esponenti importanti di Forza Italia nel caso stiamo parlando del presidente della regione Calabria Occhiuto che parla di un rischio boomerang elettorale perché come ci dice anche il Corriere della Sera che così titola autonomia si tra le proteste vedete in realtà e dedica subito le prime 3-4 pagine a questa vicenda Forza Italia insomma si è ritrovata parecchio divisa e parla il Corriere della Sera di resistenza dell'ala sud i deputati calabresi non votano ci racconta per l'appunto con questa dichiarazione fatta da c'è anche il governatore della Basilicata Vito Bardi e Occhiuto che dice questa riforma non è un bel affare per il centro destra dopodiché come vedete invece al momento dell'approvazione i deputati della maggioranza in aula hanno aperto e sciorinato le varie bandiere regionali mostrando appunto le regioni contente ed entusiaste per l'autonomia si racconta di Roberto Calderoli il ministro leghista che era tutto contento ovviamente anzi emozionato parla di giornata storica il Corriere della Sera dice anche che alla fine la perfetta sincronia fra autonomia e premierato approvato martedì pomeriggio in senato su spinta invece di Fratelli d'Italia si compie con sole 14 ore di scarto ne è dato Giorgia Meloni che dice un passo in avanti per un'Italia più forte e più giusta e però poi appunto c'è questa polemica che interessa i diciamo così i presidenti ma non solo del sud per sapere però esattamente che cosa c'è dentro questa riforma io vi consiglio assolutamente la lettura di questa pagina pagina 5 del Corriere della Sera di Marco Cremonesi ma ne trovate una molto simile anche sulla Repubblica che cosa cambia per le regioni e che cosa sono i LEP le 23 materie dal lavoro alla protezione civile anche perché la tempistica di questa riforma in realtà sarà anche questa abbastanza lunga dice infatti i Cremonesi che la legge approvata ieri dalla Camera dovrà essere promulgata entro 30 giorni dal presidente della Repubblica poi va bene pubblicata in gazzetta ufficiale entro 15 giorni e a quel punto le regioni che lo chiederanno apriranno la trattativa fermo restando che prima dovranno essere definiti materialmente i LEP e lo Stato a 24 mesi di tempo insomma non è detto che da domani tutto cambi anzi probabilmente no le 7.15 noi ci fermiamo andiamo in pubblicità perché poi andiamo a vedere invece le altre novità Allora sono le 7.20 riprendiamo la nostra edicola vi voglio far vedere il titolo che fa questa mattina eccolo qua il mattino perché abbiamo parlato dei rischi o almeno di quelli che soprattutto l'opposizione ritiene essere i rischi dell'autonomia differenziata ebbene ieri però è stato diffuso il rapporto Svimez ed è un rapporto che contrariamente diciamo così al solito rappresenta diciamo così un sud che cresce e allora il mattino che è uno dei quotidiani più importanti proprio del sud ne approfitta per farne il proprio titolo come vedete di apertura c'era una volta al sud con questa scritta tricolore altro che sfascio volano pil export e occupazione si riunisce l'Italia questo è il titolo che per l'appunto troviamo sul mattino resta anche su avvenire c'è un accenno al sud che cresce più del nord però diciamo così in modo forse un po' più equilibrato avvenire ci ricorda che in realtà il divario resta e che non è che sia proprio tutto tutto risolto siamo a pagina 6 per il racconto appunto di quest'Italia addirittura trazione meridionale perché come crescita del pil il sud supera il nord ma in realtà come dire si partiva da una base molto più squilibrata quindi è evidente insomma che non ci può essere equilibrio anche se ovviamente fa piacere che ci sia una ripresa una ripresa da questo punto di vista vi voglio far vedere anche la prima pagina del giornale perché la prima pagina del giornale invece ha un'apertura diciamo così con una frase fatta da 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 Giorgia pronunciata da Giorgia Meloni ieri alla festa per i 50 anni del giornale che ha fatto titolo non solo per il giornale ma per molti altri quotidiani intervistata dal direttore Sallusti a proposito di quello che potrà accadere sulle trattative europee infatti lei ha detto ci saranno sorprese in Europa la partita è aperta rivendico il successo del G7 con i panzerotti ora cambiamo il paese è una lunghissima intervista in realtà più che un'intervista è una lunga chiacchierata come succede poi spesso in questi casi però questa frase che riguarda per l'appunto le sorprese europee è veramente interessante anche perché sempre dal giornale se noi andiamo poi a vedere quello che ci viene raccontato a pagina 11 vediamo che quello che già era stato annunciato nei giorni scorsi di manovre all'interno dei gruppi cambiamenti partiti che uscivano altri che venivano cacciati fuori comincia a disegnare diciamo così un Parlamento europeo o almeno alcuni gruppi leggermente diversi l'ECR in particolare quello dove si trova Meloni si allarga i conservatori diventano il terzo gruppo sorpassato anche Macron ci sono 11 nuove adesioni che portano 83 i deputati e scrive Francesco Giubilei l'Europarlamento a questo punto si sposta più a destra il che significa che farne a meno cosa che insomma come sapete era nei piani di chi pensava a una riedizione della coalizione Ursula Tupur diventa sempre più difficile quindi vedremo vedremo che cosa succederà intanto a proposito di sorprese non è una sorpresa vera e propria perché che potessimo incorrere in una procedura di deficit ahimè c'era già stato anticipato però ieri c'è stata la conferma quindi non è una gran bella sorpresa deficit conto da 12 miliardi così scrive la stampa Bruxelles apre la procedura contro l'Italia la Francia e altri 5 paesi e poi ci viene raccontato appunto nel dettaglio da Alessandro Barbero e Francesco Livo come nella finanziaria del 2025 dovremo stare sotto il 4% e c'è questo appello perché il governo eviti strappi con l'Europa un aggiustamento fra l'altro che dovrà essere spalmato sui prossimi sette anni quindi insomma ci sarà ci sarà da stringere la cinghia parecchio sulla stampa viene anticipata anche un'altra notizia Spagna in poll per la poltrona di Gentiloni mentre sostiene ancora la stampa Meloni ha chiesto agli alleati lo stop agli emendamenti su redditometro e balneari Gentiloni viene che adesso come sapete è commissario all'economia in Europa viene per l'appunto intervistato dal messaggero eccolo qua oggi sono diciamo così tre le interviste che vale la pena guardare una era quella di Giorgia Meloni l'altra è quella a Paolo Gentiloni che appunto dice grazie al nuovo patto in realtà il risanamento dei conti ci sarà senza fare austerità cioè lui dice sì questi sette anni però non è di nuovo l'Europa quella dell'austerity è un'Europa che però sta attenta diciamo così alle misure sull'attuazione del piano di resilienza l'Italia rischia dei ritardi da non sottovalutare quindi è un warning che lancia Paolo Gentiloni ma il Paese è ancora sul binario giusto e però diventa sempre più importante un potenziamento delle misure di contrasto all'evasione fiscale l'altra intervista che vi dicevo anzi no però scusate prima di chiudere questo capitolo c'era una cosa che vi volevo far vedere dal Corriere della Sera che è interessante perché fra l'altro non spesso non sempre viene intervistata questa signora Lilia Cavallari è presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio l'Ubp e Federico Fubini che la intervista appunto le chiede come ci dovremmo regolare con queste misure da 10-12 miliardi l'anno e lei risponde bisognerebbe ripensare gli sgravi nelle nostre simulazioni ci ipotizziamo che il governo proponga un piano su 7 anni e in questo caso la restrizione sarebbe tra lo 0,5 e lo 0,6% del prodotto interno lordo se arriverebbe così a un bilancio in surplus prima di impagare gli interessi che sarebbe mantenuto in seguito insomma è diciamo così la strada che viene indicata da questi che sono diciamo così i migliori tecnici che possiamo esprimere da questo punto di vista vi dicevo c'è un'altra intervista interessante che non possiamo trascurare la prendo dal Sole 24 Ore Savasandir ovviamente l'apertura adesso le 24 Ore era proprio sui conti pubblici sull'alto là europeo ma quello che invece è interessante e che diciamo così scarta un po' è per l'appunto l'intervista al Ministro della Giustizia Nordio che dice è pronto il piano carceri e annuncia anche il processo civile in linea con il PNRR come sapete fra l'altro si è sempre detto che la giustizia se avesse funzionato avrebbe portato un aumento del PIL quindi ecco perché anche giustamente questa attenzione da parte del Sole 24 Ore ahimè però il piano carceri proposto da Nordio non dice cose molto diverse da quelle che vengono dette da anni ormai e che purtroppo però non vengono fatte cioè il fatto che bisogna incrementare la dotazione organica del personale costruire nuovi padiglioni in realtà una cosa c'è però perché lui dice soprattutto semplificare la procedura della liberazione anticipata inoltre per alleviare l'attenzione delle carceri si aumenta la possibilità di colloqui telefonici interfamiliari questa diciamo così a voi potrebbe sembrare poca roba per chi è in galera è già tanto ma quello che appunto farebbe la differenza è la procedura della liberazione anticipata e diciamo così un processo più rapido a proposito di processi non posso non segnalarvi quello che è in corso invece al Movimento 5 Stelle non a caso oggi la vignetta di Giannelli sulla prima pagina del Corriere è dedicata a Grillo che cerca scusate a Conte nelle vesti di Pinocchio che cerca di schiacciare con un martello Grillo una vecchia storia così dice il Corriere della Sera che poi ci racconta di questo movimento che sostanzialmente ormai sembra diviso in due partiti il fondatore con la Raggi Grillo che si è anche autointervistato sempre con la sua solita ironia e dall'altra Conte ci si arrovella insomma così e si discute all'interno del partito parecchio su questa vicenda sempre dal Corriere della Sera e questa è l'ultima segnalazione che vi faccio invece c'è una intervista no scusate dalla Repubblica un'intervista a Netanyahu non è un'intervista diciamo così che è stata firmata da un collega interno della Repubblica è una di quelle che vengono acquistate diciamo così da fuori ma va anche questa letta con molta attenzione a Gaza una guerra di civiltà che difende anche l'Unione Europea da Hamas e Iran e qui si capisce come diciamo così sia davvero profondissima la distanza fra Netanyahu e il resto del mondo che gli chiede di fermare l'intervento contro Gaza Ninfa Colasanto è già seduta al suo posto la vedo annuire perché so che nel telegiornale fra l'altro anche di queste cose si parlerà e quindi le lascio subito la linea esattamente Flavia proprio così tra l'altro veramente pochi secondi fa le agenzie hanno battuto questa notizia Tel Aviv è bloccata da una imponente manifestazione dei familiari ancora i familiari degli ostaggi di Hamas che chiedono appunto a Netanyahu proprio una mediazione per arrivare ad un cessato il fuoco e alla liberazione di questi ostaggi apriremo però il nostro telegiornale con il dibattito politico scaturito dalla approvazione la scorsa notte della legge sull'autonomia differenziata si dibatte di questo le opposizioni annunciano un referendum proprio per bloccare questa riforma anche quella sul premierato che invece la premier Meloni rivendica come appunto una riforma che la maggioranza porterà avanti una riforma di civiltà ha detto Giorgia Meloni parleremo di questo parleremo anche del bracciante indiano morto a Latina perché non è stato soccorso dal suo datore di lavoro e poi appunto l'ampia pagina degli esteri con il Medio Oriente con il viaggio di Putin che adesso si trova in Vietnam e poi chiaramente lo sport con gli europei di calcio perché questa sera gioca l'Italia tutto questo fra pochissimo io però do subito la linea a Paolo Sottocorona per il meteo buongiorno Paolo buongiorno buongiorno Nifa grazie da questa immagine non sembra una situazione particolarmente estiva perché di nuovo ce ne sono molte queste più a nord arrivano da ovest e dall'Atlantico quindi non sicuramente molto calde la soffiata calda in realtà ancora riesce a interessare il sud e il centro ovviamente insomma non il nord quindi l'Italia a 40 gradi significa l'abbiamo detto tante volte significa veramente poco per non dire nulla allora vediamo che cosa succede nella giornata di oggi molte nuvole le abbiamo viste qualche precipitazione c'è in queste nuvole anche in quelle che riguardano la Sardegna le zone del centro sono piccolissime debolissime precipitazioni però qualcosa c'è più consistente questa zona di maltempo a questo punto questo è che prende le zone di nord ovest con fenomeni molto intensi sulle zone alpine e prealpine quindi un clima come usa dire non in senso tecnico decisamente diverso poi la giornata di domani l'abbiamo divisa in due perché il tempo dovrebbe cambiare in maniera abbastanza rapida la mattina ancora questo maltempo che prende tutto il nord ovest anche le zone più in basso con fenomeni a volte solo moderati qualche volta fra Piemonte e Lombardia in zona alpina anche forti qualche pioggia debole al nord ancora nuvole ancora grigio qualche precipitazione sull'appennino centrale quindi qualcosa c'è ma guardate nella serata pomeriggio serata di venerdì tutto tende ad attenuarsi restano delle piogge sul versante adriatico in alcune zone del nord ma la tendenza è per una attenuazione abbastanza rapida e poi vediamo la giornata di sabato in cui tutto cambia nel senso che le temperature scenderanno decisamente anche al centro sud ancora maltempo che dal nord ovest si sposta verso il nord est insomma di movimento ce n'è non è una situazione assolutamente né ferma né tranquilla chiudiamo con le minime di questa mattina molto elevate al sud perché si parte da valori di massimo molto alti e quindi non riescono a scendere durante la notte si fermano anche intorno ai 24-25 gradi di minima non è poco e poi lo stato dei mari che vede tranquilli quelli centrali appena mossi il basso adriatico e lo ionio moto onduso intorno alla Sardegna la Corsica o invece un pochino più sensibile ma oltre mosso molto mosso sicuramente non si va se volete ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con l'Infacola Santo a più tardi